Non capita tutti i giorni di trovare un'azienda con il 40% di margine di profitto. Quando questo succede è sicuramente il caso di approfondire, perché potremmo essere davanti all'opportunità di un grande investimento. Bentrovati quindi amici investituri, torniamo all'analisi fondamentale. In questo video andremo ad analizzare l'azienda Checkpoint. Vi lascio tra l'altro qui sopra il link con la playlist con tutte le altre analisi che abbiamo già effettuato su tutte le altre aziende. In questo caso siamo nell'ambito della Cyber Security e abbiamo già fatto un video generale su questo settore, appunto la Cyber Security, ve lo lascio qui sopra linkato, dal quale poi sono anche nati altri due video, ovvero tutti i migliori ETF nel mondo della Cyber Security e le migliori aziende nel mondo sempre della Cyber Security. Ed in questo video quindi andremo ad approfondire proprio Checkpoint, quindi andremo ad analizzare il business dell'azienda, i dati di bilancio, il possibile valore intrinseco e quindi le strategie di investimento. Analisi fondamentali che come al solito sono fatte o da me in prima persona o in collaborazione con il team internazionale di Value Investor con il quale collaboro e infatti proprio questa analisi Checkpoint è stata fatta in collaborazione con Daniel Kotas del quale tra l'altro troverete qui sotto in descrizione il link con il suo blog dove appunto ci saranno le slide che vi mostrerò in questa presentazione. Quindi non perdiamo altro tempo, cominciamo ad analizzare l'azienda subito dopo la sigla. L'azienda come abbiamo già anticipato opera nel settore della Cyber Security e in questo caso siamo arrivati già alla quinta generazione del suo applicativo. Quindi è nato già dal 1990 quando erano più focalizzati sul controllo degli antivirus, poi ovviamente all'analisi del network in generale, agli analisi degli applicativi specifici e andando sempre più con lo sviluppo, seguendo lo sviluppo tecnologico, quindi tutto ciò che anche poi riguarda i big data o comunque il cloud e tra l'altro stanno perfezionando una soluzione ottimizzata a 360 gradi chiamata proprio Infinity che appunto va a dare un servizio complito in ottica anche di tutto quello che è la nuova tendenza di smart working anche delle aziende. Un'azienda sicuramente leader nel suo campo che ha uno dei prodotti migliori insieme alla concorrenza ovvero palo alto soprattutto e quindi un'azienda che ha anche un fatturato assolutamente solido e anche ben diversificato perché come possiamo vedere da questo grafico abbiamo il 42% che deriva appunto dal software o dalla sua manutenzione, il 32% dalle sottoscrizioni proprio di questo software e il 24% da prodotti e licenze. Quindi un fatturato molto solido e stabile, dei margini di profitto molto alti e un prodotto altamente tecnologico e comunque uno dei migliori nel suo settore. Però notiamo già qualcosa di un po' anomalo, ovvero questo è il grafico del prezzo dell'azienda e vediamo come dal 2018 sostanzialmente il prezzo dell'azienda non si è evoluto ma è rimasto sostanzialmente stabile. Cerchiamo quindi di approfondire per capire appunto se questa tipologia di investimento potrà avere veramente un grande valore aggiunto o è solamente una trappola di valore. Partendo proprio dai prodotti senza andare eccessivamente nello specifico abbiamo quattro tipologie generali di prodotto ovvero la Quantum che è appunto più legata a tutto ciò che è il settore network la Cloud Guard che ovviamente riguarda tutto ciò che è cloud Harmony e infine la Infinity che invece è quello che va ad unire un po' a chiudere un po' il cerco per andare ad offrire una soluzione a 360 gradi soluzioni che tra l'altro poi sono vendute a clienti business quindi non a clienti retail è un'azienda che appunto lavora business to business quindi anche altre grandi aziende come possono essere Google, Facebook e così via comunque hanno bisogno e utilizzano questa tipologia di prodotti per appunto proteggersi nel mondo della cyber security ed in questo mondo Checkpoint non è certamente l'azienda più grande ma vi ho già anticipato è una di quelle che ha i prodotti tecnologicamente migliori sicuramente la più grande almeno in termini di fatturato è appunto Palo Alto che comunque continua a crescere con dei tassi di crescita molto molto importanti molto più velocemente anche di Checkpoint poi abbiamo McPhee e Norton che magari sono anche un po' più legati a quello che è il settore dell'antivirus mentre Fortinet che è un altro competitor di appunto Checkpoint è Palo Alto siamo in un mondo che sicuramente si evolve in maniera molto molto rapida quindi bisogna assolutamente tenere monitorato quello che è l'evoluzione dei prodotti perché è molto facile poi uscire anche da quella che è la gamma dei migliori prodotti e quindi avere anche dei danni a livello di fatturato dell'azienda è un mondo dove per esempio gli errori non sono assolutamente permessi perché pensate se un'azienda che utilizza magari sistemi di protezione di Checkpoint ha un attacco informatico ecco che ovviamente il danno d'immagine sarebbe quasi irreversibile ma come nota positiva sicuramente abbiamo gli alti margini di profitto di questo settore che sono poi quelli che ci portano ad avere come vi ho anticipato all'inizio anche degli alti margini nella redditività di questa azienda ultima nota sicuramente da tenere ben presente è la grande competitività del settore perché come abbiamo visto ci sono due competitor principali in questo caso Palo Alto e Fortinet però è un settore comunque altamente competitivo e quindi siccome si evolve in maniera molto molto veloce è difficile anche rimanere sempre ai primi posti un focus particolare da questo punto di vista va dato al management dell'azienda è un'azienda israeliana è un management fortemente coinvolto nella gestione dell'azienda infatti abbiamo il 21% delle azioni che sono proprio possedute dagli insider dell'azienda di cui addirittura il 17% proprio dal suo amministratore delegato e la politica di amministrazione e gestione di questa azienda è sicuramente una politica molto molto accorta infatti molto spesso gli analisti soprattutto hanno rimproverato a questa azienda di non usare tutto il loro cash che è a disposizione infatti negli ultimi 4 anni l'azienda ha sì fatto delle acquisizioni ha fatto però delle acquisizioni sicuramente locali quindi di altre aziende israeliane questo da un lato è sicuramente un mene perché comunque vuol dire che hanno acquistato aziende che comunque magari conoscevano molto bene che erano nel loro già network e quindi comunque erano sicuri dell'acquisto che andavano stavano per fare dall'alto sicuramente potrebbero usare tutta questa liquidità per accelerare di molto il loro processo di crescita e magari avere anche delle altre acquisizioni però sicuramente questa è una caratteristica che nel bene e nel male va riconosciuta a checkpoint infatti hanno tanta tanta liquidità la usano in maniera comunque molto ragionata e questo ovviamente li sta anche un po' penalizzando dal punto di vista della crescita lo vedremo tra un attimo ma sicuramente gli dà una situazione finanziaria assolutamente stabile e infatti come vi stavo anticipando abbiamo proprio un margine di profitto addirittura siamo oltre il 40% che è un margine molto molto alto abbiamo un RUE che vi ricordo è un parametro che non dovete mai considerare in un anno singolo ma dovete vedere la sua evoluzione storica in questo caso è assolutamente costante ed è intorno appunto anche qui superiore al 20% quindi un ottimo risultato anche da questo punto di vista ed anche un RUA quindi il loro ritorno on asset che è al 14% quindi dei risultati davvero molto molto importanti per questa azienda e si rispecchia tutto ciò anche nell'assoluta mancanza di debito infatti in questo grafico vedete che c'è un rapporto sul quick ratio e il counter ratio ma vedete come mancano queste altre due colonne che dovrebbero esserci sempre legate appunto al rapporto del debito sull'equity ma è un debito che comunque non c'è perché appunto l'azienda riesce assolutamente a finanziarsi con l'alta cassa che genera ed è un'azienda che ha una stabilità economica così forte ed ha anche un prodotto altamente tecnologico che è sicuramente all'avanguarda ci potremmo aspettare dei multipli comunque un prezzo molto alto e invece non è il caso di Checkpoint che comunque si aggira con dei parametri per esempio il PE intorno a 20% che in questo settore vi dico già è uno dei più bassi in tutta la cyber security ma come mai proprio un'azienda così ben messa sia dal punto di vista tecnologico sia dal punto di vista di numeri non ha un prezzo elevato è davvero sottovalutata dal mercato? in realtà una delle ragioni lo vediamo in questo grafico è la bassa crescita che questa azienda sta avendo negli ultimi anni infatti siamo intorno al 5 al 7% come tassi di crescita di fatturato di questa azienda soprattutto quindi in realtà l'azienda sta in questo momento sotto performando anche quella che è un po' la crescita del settore della cyber security nel suo complesso e questo può essere un fattore di rischio che deve essere sicuramente tenuto in considerazione quindi per ricapitolare quelli che sono un po' i dati positivi e negativi di questa azienda abbiamo sicuramente tra i pro il fatto che ha una situazione economica eccezionale abbiamo sicuramente la creazione di valore da parte di questa azienda per gli investitori abbiamo sicuramente un allineamento di interessi tra l'amministratore delegato il management in generale di questa azienda e appunto gli investitori e sembra ad un primo impatto che comunque l'azienda sia venduta con dei multipli non eccessivi quindi potrebbe anche essere sottovalutata e inoltre lo vedremo tra un attimo più nel dettaglio abbiamo anche un elevato buyback dalla parte degli aspetti negativi invece dobbiamo sicuramente rilevare l'elevata concorrenza e il tasso di crescita che non è sicuramente a livello dei competitor e quindi bisognerà capire anche come l'azienda farà a competere con le altre aziende sul mercato arrivando ad una valutazione di questa azienda sicuramente i valori che andiamo ad inserire vanno ad incidere tantissimo sulla variabile appunto del valore intrinseco dell'azienda stessa in questo caso avendo preso dei valori molto conservativi stiamo assumendo un tasso di crescita all'1,5% tra 3 e 10 anni che comunque è molto basso stiamo assumendo poi un tasso di lungo termine al 3% e soprattutto stiamo assumendo un tasso di sconto all'8% quindi abbastanza alto in questo caso arriviamo ad un valore intrinseco intorno ai 98 dollari di azione però se provate anche voi a fare i calcoli vedrete come al variare di questi valori semplicemente magari mettendo un 7% al posto dell'8% come tasso di sconto vedete come varia tantissimo anche il valore intrinseco dell'azienda quindi potrebbe essere sottovalutata o sopravvalutata in funzione appunto dei valori che andate ad inserire in questo caso l'invito come al solito è quello di fare le vostre analisi, fare le vostre ricerche e cercare di capire anche con quali parametri siete più confidenti di lavorare in base appunto al vostro profilo di rischio e al vostro portafoglio ad ogni modo con questi parametri quindi abbiamo un valore intrinseco intorno al 98 dollari l'azienda in questo momento con una quotazione a 114 dollari sembrerebbe sopravvalutata del 16% ma un ultimo aspetto è sicuramente importantissimo da sottolineare ovvero che il nostro ritorno economico in questo caso non sarà solamente nel miro prezzo dell'azienda infatti come vediamo anche da questi grafici l'azienda è impegnata in un fortissimo buyback quindi è vero che come abbiamo visto inizialmente il prezzo negli ultimi anni è rimasto sostanzialmente stabile ma è anche vero che l'azienda ha fatto appunto un buyback molto molto importante quindi noi in realtà abbiamo avuto anche un ritorno economico più alto di quello che si vide dal miro prezzo dell'azienda perché appunto la nostra quota parte di proprietà dell'azienda è aumentata grazie al forte buyback che c'è stato da parte appunto di checkpoint in questo caso questo buyback ci dà un ritorno di valore che mediamente è del 7% annuo quindi comincia a diventare un ritorno molto molto importante indipendentemente dal fatto che il prezzo sia bloccato nel canale appunto in cui si trova attualmente quindi in definitiva un'azienda che è leader tecnologico nel suo settore ha un business molto molto stabile quindi con dei clienti che sono dei clienti ricorrenti per l'azienda e soprattutto ha una situazione finanziaria eccellente con una generazione di cassa molto molto alta abbiamo quindi visto che questa cassa è in parte impiegata per nuove acquisizioni comunque sempre molto ragionate e in altra parte in altra misura impiegata per il buyback e quindi per dare un certo ritorno anche agli investitori sicuramente una nota negativa è il tasso di crescita che in questo momento diciamo che non è soddisfacente per quello che è l'evoluzione del settore della cyber security però è anche vero che con questo tasso di crescita possiamo in questo momento comunque acquistare l'azienda ad un prezzo che relativamente ai suoi competitor è sicuramente molto più ribassato bisognerà ovviamente considerare poi nel tempo come si evolveranno le cose quindi magari se Checkpoint finalmente riuscirà ad avere una svolta di crescita importante aspetto quindi tutti i vostri commenti qui sotto vi ricordo che invece sopra vi lascio il link con la playlist di tutte le altre analisi fondamentali che abbiamo già fatto per le altre aziende vi ricordo di cliccare un bel mi piace se vi piacciono appunto questi video queste argomentazioni per aiutarci con l'algoritmo di YouTube e di iscrivervi al canale attivando la campanella se non la avete ancora fatto noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo video io vi saluto e buon dividendo a tutti mi piace Grazie a tutti.